Verrebbe da dire che sia l'unico e più credibile motivo per il quale lui si sarebbe fatto arrestare. Perché è vero che Dan Bilzerian, definito uno dei red Instagram, donne, droga e armi a fare da sfondo al suo stile di vita sfrenato, è stato arrestato con un capo d'accusa affine alla sua personalità e alla sua condotta. Possesso di esplosivo. L'invidiato Bilzerian è stato infatti fermato nella giornata di martedì all'aeroporto di Los Angeles proprio con questa accusa, un fatto che arriva a pochi giorni di distanza da un'altra notizia che lo riguarda, ovvero un calcio in faccia rifilato ad una donna in discoteca mentre lei cercava di salire sullo stesso palco dove Bilzerian si trovava con i suoi amici. Secondo quanto riportato da TMZ, la polizia di Los Angeles ha infatti fermato il 34enne su mandato di un ordine di cattura emesso lo scorso mese da Clark County, in Nevada. Sarebbe stato sorpreso in possesso di dosi di ammonio, polvere di alluminio e nitrato di ammonio, con le quali è possibile produrre un cocktail esplosivo. È irrinunciabile affermare che Bilzerian si sia fatto arrestare col botto e nelle prossime ore sapremo probabilmente maggiori dettagli in relazione al fermo. L'eccentrico personaggio, fisico da macio, più di estrazione militare che derivante da duri allenamenti in palestra, è diventato un vero e proprio mito del web negli ultimi mesi, grazie a foto inebriante con una caratteristica comune, il più delle volte. Mucchi di ragazze seminude in pose provocanti, che sottintendono la massima disponibilità possibile. Nella sua vita dissoluta ha avuto sino ad ora ben tre infarti, pur non essendo una persona attempata, a solo 34 anni. Sono stati tutti condizionati dal suo stile di vita sfrenato e assolutamente incontrollato, tra sesso, droghe e farmaci. In passato, inoltre, va registrato come sia stato buttato fuori, a due giorni dal termine, dal corso dei nevi cells. Chi se ne frega!